ciao a tutti cari amici ecco allora il nostro appuntamento di sabato sabato sera siamo entrati nella seconda settimana perché sapete che con la domenica iniziamo noi cristiani la nuova settimana e la domenica inizia il sabato pomeriggio al tramonto con la messa della domenica nella vigilia chi è già stato a messa avrà ascoltato il bellissimo brano della trasfigurazione di Gesù e Gesù ci trasfigura quando entriamo in preghiera e già stasera lasciamoci trasfigurare dalla sua parola prendete il vostro libro il nostro libretto ti do la mia parola a sabato 12 marzo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen dal libro del profeta isaia non temere perché io sono con te non smarrirti perché io sono il tuo dio ti rendo forte e ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia due frasi semplici di isaia ma con dentro espressioni bellissime consolanti commoventi e vedete isaia ci dice che dio ci accompagna sul cammino che intraprendiamo qui si intende il cammino della vita ma noi possiamo anche intendere il cammino della quaresima siamo i primi passi e Gesù attraverso la sua parola e anche nell'antico testamento ci dice non smarrirti perché quando si comincia un cammino serio è facile stancarsi all'inizio smarrirsi e se magari siamo già stati presi da questa tentazione di lasciar perdere per esempio questa preghiera quotidiana o i nostri impegni personali ritorniamo subito senza paura perché ci viene un po la voglia di dire ma non sono capace di essere fedele lasciamo perdere facciamo finta di niente no dobbiamo anche non lasciarci prendere da questo orgoglio di aver sbagliato e quindi lasciarci prendere da una certa fatica insofferenza a volte anche scoraggiamento il signore ci dice è facile smarrirsi all'inizio ritorna subito in carreggiata ascoltiamo adesso il commento per i bambini tante volte ho paura e mi trovo in tante difficoltà ma dio mi promette di starmi accanto di non lasciarmi solo lui è un amico fedele mantiene le promesse so che da quando sono stato battezzato dio non mi ha più lasciato solo anzi sono diventato suo figlio amato so che mi è sempre vicino più di qualsiasi altra persona perché lui arriva ovunque ed è in ogni luogo quando sono a scuola in mensa in cortile in oratorio a casa nella mia cameretta con dio accanto non ho più paura dio ci è sempre vicino e c'è accanto nel momento della prova invochiamolo dicendo aiutaci nelle difficoltà signore insieme aiutaci nelle difficoltà signore quando ci troviamo soli e in quel momento nessuno ci vuole aiutare aiutaci nelle difficoltà signore quando siamo provati provocati a fare il male o a rispondere male a qualcuno perché siamo arrabbiati aiutaci nelle difficoltà signore il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo ame arriva un messaggio anche stasera dal mondo è un proverbio maori rivolgi il viso verso il sole e le ombre cadranno alle tue spalle con questo augurio vi saluto vi auguro una buona domenica ci vediamo a messa domani ricordatevi che il cammino domenicale continua con la nostra scheda e poi ci vediamo con il video domani sera come al solito buonanotte ciao a tutti buonanotte